A me lo dici. Un abuso dei poteri che non lo dice mai. Fate al comando per protestare i tecatoi, per parlare però con il comandante. Questo ti dimostra come è chiusa la direzione. Il comandante c'era, vabbè, mi fanno i meriti dicendo io vorrei parlare con lei per qualche cosa. Ma la contestazione è esattamente che cosa avevano contestato al comando? Allora, mi hanno fatto una diffida. La parte della diffida, il verbale che gli è arrivato. Il verbale per la murta che io... Accedeva all'interno della... Che poi, ne manco una cosa. Quella che oggi è soggetta a lei, secondo l'ordinanza... Esatto. Io, lei, lei, non ci stanno più a segnalazione. Non hanno più a quattro. Perché non la rimetta? Devi dimettri tre mesi l'hanno rinnovata. Devi dimettri tre mesi. Io la cerco di affidità.